Buongiorno, è l'ultima celebrazione prima dell'inizio della Settimana Santa che si avvia con la Domenica delle Palme o Domenica di Passione. Oggi ascoltiamo ancora il Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, versetti dal 45 al 56. In essi vi è un passaggio importantissimo per imparare a leggere la storia secondo la logica della fede. Caifa, infatti, sommo sacerdote, insieme ai suoi colleghi del Sinedrio, sacerdoti e farisei, decide di uccidere Gesù e la decisione viene da un'affermazione importante nella quale egli dice che è più conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. L'Evangelista riconosce in questa frase una profezia che tuttavia Caifa formula senza avere coscienza della profondità di quanto egli sta dicendo. Oltretutto egli è un uomo malvagio che decide di agire a partire dalla violenza, dalla gelosia e dall'invidia. Come può essere che sulla bocca di quest'uomo ci sia una profezia che annuncia quello che sarà veramente il mistero di salvezza che si compie in Gesù? E' infatti la morte di Gesù l'offerta di una sola vita perché tutte le nostre vite abbiano senso e non vadano perdute. Muore Gesù perché non solo la nazione di Israele ma tutti i figli di Dio che siamo noi siamo riuniti e non più dispersi, raccolti attorno all'abbraccio misericordioso del Padre. Questa profezia sulla bocca di un uomo malvagio vuole indicare come la storia è realmente nelle mani di Gesù, nelle mani di Dio, nelle mani del Signore che conduce tutte le vicende dell'umanità verso l'unico fine della misericordia e dell'amore. E tuttavia non ci spinge questo a leggere la storia in maniera fatalistica, non è una marionetta caifa nelle mani del Signore, piuttosto ci obbliga ad avere lo stile che Papa Francesco ci ricorda nel guardare anche la crisi e la pandemia dentro la quale ci troviamo, cioè trasformare ogni situazione in un'opportunità. Anche quando vi è il male, anche quando vi è una ferita, il peccato, il cristiano è colui che riconosce che Dio è presente e diventa un alleato per trasformare questo passaggio di sofferenza in un'opportunità di vita nuova. Dio Padre non vuole la morte del Figlio Gesù, ma di questa morte che diventa necessaria perché possa essere eggi solidale con tutti noi e possa esprimere l'amore totale che ha per l'uomo, questa morte diventa l'occasione per mostrare la forza potente di Dio che è ancora ancora amore, perché la risurrezione, questo solo ci dice, dentro le righe storte che noi scriviamo nella nostra storia, il Signore trasforma e riconduce a una retta via di salvezza, di bene e di speranza, che possiamo leggere anche le nostre sofferenze come luogo di salvezza perché Dio in Gesù non ci abbandona mai. Buona giornata.